E' stata sfiorata la tragedia a Battipaglia, infatti un bimbo di soli due anni è stato salvato dalla polizia con intervento veloce ed efficace. Il piccolo, secondo la ricostruzione dei fatti, si sarebbe arrampicato sulla ringhiera di un balcone al primo piano di una casa in via Stella e stava per precipitare da circa 8 metri di altezza. Sul posto, in tempi davvero celeri, sono giunti gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia al riordine del vicequestore aggiunto Immacolata Concia, che hanno sfondato la porta dell'abitazione afferrando il piccolo dalla ringhiera del balcone. Grazie al loro intervento si è evitata una possibile disgrazia.